Si è svolta ieri mattina nella sede istituzionale di Palazzo Baronale la cerimonia di consegna degli encomi a due volontari di protezione civile dell'associazione Torre Vesuvio Pro Natura, Antonella Iodice e Noemi Pizzimenti e al presidente Paolo Belfiore. Le due giovani volontari di Torre del Greco infatti, oltre a prestare dallo scorso 6 marzo per conto dell'associazione, attività di servizio volontariato e quotidiano presso la sede del punto di vaccinazione territoriale anti-covid Santissima Trinità, disciplinando e indirizzando i flussi di cittadini per le operazioni di somministrazione vaccinale, hanno anche operato un pronto intervento lo scorso 27 maggio a favore di un'anziana signora che, svenendo, ha riportato lussazione alla spalla. Notando la situazione di evidente necessità, le due ragazze sono intervenute con determinazione, soccorrendo la donna e allertando il 118 e la polizia locale. A consegnare i riconoscimenti il sindaco Giovanni Palomba, nel pieno rispetto e la normativa dei protocolli di contenimento e contrasto al covid-19.